Musica Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Computer Museo Quest'oggi è arrivato un nuovo componente che come vediamo è il modulo da 2,4 GHz per Arduino Lo so, la quarta stagione sta andando un po' a singhiozzo ma purtroppo alcuni componenti abbiamo scoperto durante la produzione dei video che erano difettosi E abbiamo richiesto la sostituzione, però ci vorrà del tempo, quindi verranno sostituiti da nuovi unboxing, nuove recensioni e poi verrà tutto ripreso normalmente Però non vi preoccupate, sarà ripreso entro i prossimi giorni, tra pochissimi giorni, quindi dovremo riniziare tutto in teoria come si deve e riuscire anche a fare la quinta stagione al completo Ora, qua dentro abbiamo due moduli da 2,4 GHz, comprati su Ebay a soli 4€ più 1,50€ i spesi spedizioni Anche se, come vedete, anche l'altra volta abbiamo comprato da uno stesso venditore che spediva alla fine con 80 centesimi Ma abbiamo capito che un po' anche la busta, l'involucro e l'imballaggio costano circa 1€ e quindi abbiamo capito da dove proviene l'1,50€ Ora, andiamo ad aprire la nostra busta All'interno, cosa ci troviamo? Ci troviamo, come ho detto prima, i due componenti Anche se, purtroppo, come vedete, si vede che il peso eccessivo che c'era sopra questa busta è riuscita a rompere proprio la busta all'interno Facendo uscire fuori i contatti e rendendoli vulnerabili a botte o altre cose, quindi a rovinarli Però, in teoria, eccoli qua, questi sono i due nostri moduli da 2,4 GHz Per far comunicare, ad esempio, due a Arduino I moduli in questione, come vedete, sono semplici, sono due moduli Uno anche abbastanza rovinato, sembra che gli è caduta sulla saldatura Come vedete, aspettate che zoomo Cioè, gli è caduta la saldatura Certo, sono fatte un po' col culo le saldature, hai detto sinceramente Però, dovrebbe, in teoria, funzionare Poi proveremo tutto nelle varie puntate Modulo di recensione, modulo di trasmissione Trasmettono tutti su una frequenza di 16.000 MHz Credo di dire giusto, almeno credo Comunque di 2,4 GHz Questi erano i moduli da 2,4 GHz Spero che il video vi sia piaciuto E ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo Ciao ciao! Ciao!